Gianluca Spera, grande soddisfazione intanto per la partecipazione a questo concorso. Sicuramente essere tra i 20 libri selezionati dalla libreria Io ci sto è un motivo di soddisfazione, tra l'altro i nomi che con me concorrono al premio finale sono nomi importanti, che già noti anche al pubblico nazionale, quindi essere insieme a loro già mi rende orgoglioso per questo. Nel testo presentazione di questo post abbiamo spiegato come votare il tuo romanzo, ma ricordiamo che cos'è questo 1983. È un po' la storia romanzata della sparizione di Emanuele Orlandi, una storia tra l'altro che oggi è tornata di grandissima attualità, io nel quarantennale tra l'altro della scomparsa, io ho cercato di rendere la storia più fruibile e proprio ispirandomi liberamente ai fatti che sono successi, però qua e là ho dato anche degli spunti oggettivi. La realtà si mescola con la finzione, molto spesso la finzione è più reale della realtà.